La sicurezza stradale è un valore da preservare e trasmettere a chi è giovane e neopatentato e la sostanziale diminuzione degli incidenti nel nostro paese non autorizza ad abbassare l'attenzione perché gli incidenti in automoto restano la principale causa di morte per i giovani in età compresa tra i 5 e i 29 anni. Il rapporto sulla sicurezza stradale 2022 realizzato da Decra ricorda come secondo l'ultima stima preliminare Istat relativa al periodo gennaio-giugno 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 i dati indichino che si sono verificati 81.437 incidenti stradali con lesioni a persone, le vittime sono state 1.450 e i feriti 108.996. Quest'anno il rapporto è centrato sulla sicurezza dei giovani alla guida, un fenomeno molto rilevante in quanto nel 2021 ci sono stati 175.000 morti per giovani compresi in età tra i 15 e i 24 anni. Pensiamo che è la prima causa di morte per i giovani compresi in questa fascia di età, di conseguenza bisogna focalizzare molto l'attenzione affinché questo numero possa drasticamente diminuire e affinché la vision zero possa divenire realtà. Un primo elemento fa riferimento al comportamento che è la principale causa di incidenti, pensate che prendere degli oggetti mentre si guida aumenta e moltiplica di 7 volte il rischio di incidente, il 41% in più per quanto riguarda chi invece è molto attento alla guida e non si fa distrarre. Relativamente alla scelta dei veicoli per i nuovi patentati, anche se di seconda mano, fare molta attenzione a quella che è la manutenzione del veicolo, alla revisione del veicolo perché si tratta di elementi fondamentali e ultimo ma non ultimo esperienza e prudenza. Nuove prospettive arrivano tuttavia dai veicoli di nuova generazione che sono connessi ai digitali e quindi risultano essere maggiormente sostenibili, a volte però anche si sono usati senza un'adeguata consapevolezza e formazione rispetto ai rischi, anche fisici derivanti da un impiego non completamente informato di tali mezzi. Il versante della prevenzione è fondamentale, la punizione è un elemento repressivo ma bisogna comunque sensibilizzare all'utilizzo dei veicoli nel modo giusto anche perché oggi abbiamo a disposizione veicoli con nuove tecnologie ma anche questo è fondamentale spiegare a cosa servono e come si usano le nuove tecnologie a bordo dei veicoli. Dal rapporto DECA emerge l'importanza di supportare il processo di maturità dei teenager alla guida rendendoli consapevoli dei rischi nel loro vivere quotidiano. Ragioniamo sul mezzo bicchiere pieno, ragioniamo sul fatto che se è vero che il problema esiste ed è ancora un problema importante c'è anche da dire che però progressivamente nel tempo la tendenza rispetto soprattutto alle vittime e ai feriti nella classe di età abbiamo provato a mettere in evidenza delle statistiche dai 18 ai 29 anni, quindi diciamo i più giovani e si vede come effettivamente nel tempo c'è stata una forte riduzione sia della mortalità che in parte anche dei feriti, quindi delle conseguenze degli incidenti. Quindi vuol dire che qualcosa sta avvenendo in positivo e dobbiamo incoraggiare e proseguire lungo questa direzione. Presenta all'evento anche il ministro dell'infrastruttura e dei trasporti Matteo Salvini. Se uno si mette consapevolmente alla guida, drogato o ubriaco, e provoca incidenti, morti e feriti, la sospensione della patente per uno o due anni non è sufficiente. Sono diverse associazioni che riuniscono le vittime dei pirati della strada che chiedono la revoca a vita e io penso che se qualcuno si mette alla guida imbottito di cocaina o ubriaco marcio è una bomba, è un potenziale assassino. E quindi se non la revoca a vita però almeno la sospensione per dieci anni del diritto di guidare penso che sia sacrosanto.